La vita spirituale, di cui l'arte è una componente fondamentale, è un movimento ascendente e progressivo, tanto complesso quanto chiaro e preciso. È il movimento della conoscenza. Può assumere varie forme, ma conserva sempre lo stesso significato interiore, lo stesso fine. Non sappiamo perché sentiamo il dovere di andare avanti con sudore della fronte, tra sofferenze e malvagità e crisi. Raggiunta una meta, eliminati molti sassi pericolosi dalla strada, una mano invisibile e crudele getta su questa strada nuovi blocchi, rendendole irriconoscibili. Allora, però, arriva un uomo che ci assomiglia, ma ha in sé una misteriosa forza, visione, personale. Egli vede e ti fa vedere. A volte vorrebbe liberarsi di questa superiore capacità che per lui costituisce spesso una pesante croce. Ma non può. Tra schermo e odio trascina in alto il pesante carro dell'umanità, che oppone resistenza e si blocca fra i sassi.